Ciao ragazzi sono Chris e benvenuti nel mio garage. Oggi vi parlo di questa levigatrice a penna multifunzione ricadicabile della Parkside modello, mi devo avvicinare, PFBS 12C5 prodotta dalla OWIM il 10 2021. L'ho comprata il 4 aprile 2022, lunedì 4 aprile, al prezzo di 19€. Allora, levigatrice a penna multifunzione o smerigliatrice a penna multifunzione o come viene chiamata da molti Dremel, anche se Dremel in realtà è la marca che ha reso famoso questo tipo di utensile, così come noi chiamiamo tutte le creme alla nocciola Nutella, però questa è una smerigliatrice, possiamo chiamarla più levigatrice a penna e multifunzione. In questo caso ricaricabile perché è alimentata da una batteria integrata da 12 volt che non può essere sostituita se non mandandolo in assistenza. Venduto, come vi dicevo prima, 19,90€ in una valigetta con tanti accessori. Va bene, ma avviciniamo la telecamera e vediamolo subito nel dettaglio. Allora viene venduto in questa valigetta con la parte frontale trasparente che si trasforma anche in un pratico espositore, se giriamo vedete, per poterlo mettere all'estremità del nostro banco e avere a disposizione tutti i piccoli utensili, tutti gli utensili che ci servono, anche se probabilmente durerà poco e si arriverà presto a una soluzione analoga a questa. Valigetta universale, ah guardate qui ho trovato altri accessori Parkside. Valigetta universale con alcuni Dremel, quello verde non è Parkside, penso, vediamo. No, quello verde non è Parkside ma è il mandrino che va per i fatti suoi. Vedete qua io poi ho sistemato tutti i vari utensili in questo modo. Molatura, lucidatura, va bene, questo è più una gestione personale. E come vedete ci sono inclusi parecchi accessori che ci consentono di utilizzare questo tipo di utensile per forare, ecco qua le punte per forare, per fresare, queste qua, e infatti per fresare, per esempio, è questa, per incidere, queste qua con la pallina, ad esempio, per incidere sul vetro, questa per esempio, per lucidare questi, abbinato a questo, però poi ve lo faccio vedere, spazzolare, levare la ruggine, queste qua metalliche, ops, e per tagliare, sempre abbinati a questo tipo di supporto qua, ora poi ve lo farò vedere, una serie di dischi contenuti da taglio e da sbavo all'interno di questo cilindretto e possiamo utilizzarlo su tutti i materiali, legno, plastica, vetro, ferro, ottone, oro per lucidare, l'utilizzo che possiamo fare di questo, di questo utensile è veramente ampio, ricordiamoci che però la potenza è limitata dal fatto che non è alimentato a 220 volt, ma in genere anche quelli alimentati a 220 volt, si utilizzano per lavori più di fino, dove non servono eccessive potenze, prima di vederlo nel dettaglio, vediamo cosa dice la confezione, che vedete che si chiude, si può richiudere con questa clip, e c'è pure un piccolo incavo qui, per poterla appendere alla parete millefori, se ad esempio lo vogliamo tenere, facciamo un piccolo esempio, se vogliamo per esempio tenerlo così, appesa alla nostra parete, e anche da appeso, possiamo aprire, ecco va bene, in questo caso vabbè si poggia qui, ma si apre ruotando di 180 gradi, e tenerlo appeso alla nostra parete, o se abbiamo il banco millefori, come questo che c'è qua dietro, possiamo lasciarla appeso sulla parte posteriore del nostro banco, allora veloce lettura di quello che dice la confezione, ha del codice PFBS12C5, perforare, fresare, levigare, lucide, va per quello che vi ho detto prima, batteria 12V, 1.3A, cavo usb per la ricarica, un metro e mezzo, e poi vi faccio vedere perché hanno messo un cavo così lungo, accessori in dotazione, 44 inserti, 5 mandrini, uno premontato, una chiave per l'ostituzione degli inserti, va bene, tutto il resto, come vi dicevo prima, prodotto dalla OWIM e dalla parte frontale, in più leggiamo che ha una velocità che va da 5.000 a 25.000 giri al minuto, e ha il serraggio rapido spindle lock del mandrino. In aggiunta a quello che vi ho detto prima riguardo al contenuto della confezione, vediamo che ci sono 5 mandrini di diversa misura che ci consentono di poter montare su questo utensile accessori con dimensioni diverse del codolo o del gambo, o per esempio vedete la punta sottile, molto sottile, non so nemmeno che misura sia, abbiamo bisogno di prendere il mandrino più piccolino, mentre per quelli lì più grossi, per esempio hai questa, montiamo il mandrino più grande, allora mentre abbiamo parlato del mandrino facciamo vedere come si cambia, veloce veloce, allora parte frontale, tasto per bloccare la rotazione del mandrino, ruotiamo un po' fino a quando si preme tutto, ok, utilizzando la chiave in dotazione, che è una chiave combinata, cacciavite e chiave inglese, inseriamo qui, apriamo, svitiamo completamente, stiamo attenti a non perdere questa ghiera ma comunque si trova come ricambio universale sui vari store, sfiliamo molto semplicemente il vecchio mandrino e mettiamo quello nuovo, rimettiamo il dado di serraggio e stringiamolo facendo una lievissima rotazione, ragazzi non è necessario stringerlo eccessivamente, naturalmente ora non essendoci l'utensile fa parecchio movimento, sulla parte frontale mentre è zoomata vediamo che c'è questa copertura in plastica che ci permette di vedere una parte filettata dove probabilmente, però per certo non ve lo so dire, ci sarà la possibilità di mettere accessori o di utilizzare gli stessi accessori dell'equivalente utensile a corrente elettrica a filo. Prima di concentrarci sull'utensile così mettiamo da parte, facciamo un po' di spazio, cavo di ricarica lungo un metro e mezzo perché la particolarità di questa levigatrice a penna è che per ovviare il problema della batteria non intercambiabile hanno dato la possibilità, a differenza dei modelli precedenti, di poterlo utilizzare mentre è in carica. Allora come vedete ho inserito il caricabatterie che dall'altro lato è inserito in un classico elementatore da smartphone non incluso nella confezione e ci sta dicendo la percentuale di carica. Come vedete possiamo utilizzarlo così se abbiamo iniziato un lavoro con la comodità di essere cordless e poi magari ci manca poco per finire si scarica la batteria lo colleghiamo e possiamo continuare il lavoro. Oltretutto la posizione del caricabatterie a differenza dei modelli precedenti che se non sbaglio era in questo punto come vedete è stata scelta per poter essere utilizzato diciamo vedete senza che il filo ci dia fastidio ed ecco perché hanno incluso un cavo di un metro e mezzo. Va bene la recensione al contrario perché ho lasciato per ultimo l'utensile vediamo com'è fatto. Allora sigla pfbs 12 c5 logo parkside molto simpatico e abbiamo visto la parte frontale con il dado di serraggio il mandrino e questa ghiera vediamo cosa dice il libretto di questa ghiera 8 dado di raccordo esatto infatti ci sarà la possibilità probabilmente di utilizzare gli accessori come si trovano spesso già inclusi nella confezione in smerigliatrici o levigatrici a penna molto più costose e abbiamo visto il tastino rosso per il bloccaggio del mandrino spindle lock porta usb molto compatto è veramente molto rigido e non è nemmeno tanto leggero effettivamente non è leggerissimo sono 430 grammi un po di più effettivamente di alcuni a filo e però naturalmente ci sono le batterie come vedete tutto quello che è di nero è gommato e tramite questi piedini qua ci consente di poggiarlo sulla superficie che stiamo lavorando senza rovinarlo senza rovinarla perché dove in qualsiasi modo lo mettiamo tocca gomma in teoria l'impugnatura dovrebbe essere più o meno così in modo da non tappare fuori di aerazione del motore perché se mettiamo così si vanno a tappare e di non dover premere accidentalmente il tasto di bloccaggio perché potrebbe capitare di fare questo ok e che succede che poi il perno si va a rompere e non blocca più quindi l'impugnatura come anche probabilmente consigliato da questo tipo di sagoma qui va impugnato in questo modo anche in prossimità proprio del di questa ghiera di bloccaggio abbiamo visto i led per l'indicazione dello stato di carica che però quando accendiamo danno la carica della batteria avete anche visto che ho acceso da questo minuscolo interruttore sulla base dell'utensile per regolare la velocità invece abbiamo questa ghiera rossa che ci dà la possibilità di variare la velocità questa ghiera degli scatti sentite anche se la velocità non sempre corrisponde allo scatto vi faccio vedere allora siamo in prima velocità faccio lo scatto attenzione seconda terza vedete ancora non ho fatto lo scatto e va in quarta così rimane in quarta quinta sesta massima possiamo anche accenderlo direttamente alla velocità massima togliamo tutto quello che possiamo togliere per vedere se si riduce la luminosità no questo no ok avete visto come silenzioso senza nessun accessorio perché probabilmente l'utilizzo di accessori sbilancia un po il il mandrino e fa un po più di rumore ok allora ragazzi c'è poco altro da dire riguardo a questo tipo di utensile ora l'acquisto di questo utensile è cascato a fagiuolo con un lavoro che stavo facendo di ripristino di queste parti un po' ossidate di questo di questo sistema di iniezione fin di carburatori di una moto guzzi ora ragazzi andiamo a fare qualche prova per farvi vedere un po come si può utilizzare ma gli utilizzi sono veramente tanti che fare un video su tutte le modalità di utilizzo significerebbe farlo durare almeno 45 minuti quando utilizzate tutti questi accessori ma soprattutto i dischi da taglio è importantissimo utilizzare gli occhiali di sicurezza vi ricordo che questo utensile gira 25.000 giri al minuto e se un dischetto di questo si dovesse rompere a 25.000 giri al minuto è un proiettile vero e proprio vi racconto una cosa veloce 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 prima di iniziare le prove un giorno stavo utilizzando un utensile come questo a filo per tagliare un piccolo bordino di ramiera all'interno di un fianchetto di una moto con un disco come questo fortunatamente avevo gli occhiali di sicurezza perché finito il taglio mentre l'utensile stava decelerando lo poggio sul banco tocca una chiave inglese da 10 da 12 si rompe il disco sento solo il rumore e il disco sparisce dall'utensile avevo gli occhiali e vedevo con l'occhio sinistro appannato sbattendo le palpebre tocco qualcosa mi levo gli occhiali e praticamente c'era una fettina di disco come se fosse un pezzettino di pizza una fettina di disco infilzata all'interno dell'ucchiale di sicurezza e praticamente a non so quanti millimetri dall'occhio tant'è che io sbattendo le palpebre le avevo toccato con le sciglie questo per dirvi che i dispositivi di protezione individuale sono importantissimi va bene andiamo a metterlo alla prova allora proviamo a lucidare con questo accessorio che va avvitato semplicemente perché poi la rotazione tenderà sempre a farlo avvitare di più e un po di crema di osso però per evitare di sparpagliare la crema ovunque metteremo questi fantastici boxer che non utilizzo più sicuramente andrebbe smontato per un lavoro preciso però guardate già si vede una bella differenza niente mi sa ragazzi che lo devo smontare così viene più bellino il lavoro però guardate già com'era com'era e com'è cambiato colore queste invece sono delle mutande sono belle le pezze che ho in garage vediamo di utilizzare lo spazzolino allora queste quelle a setole morbide e più andremo veloci e più si aprirà a ventaglio vediamo di trovare un giusto equilibrio allora piuttosto che la crema sto utilizzando del grasso spray perché così l'azione di questo mi diventa meno aggressivo ed evito di fare i segni i graffi è vero che il grasso spray mi sta facendo fare un pasticcio però dai sta venendo pulito vediamo come finisce questo lavoro un po' scomoda un po' scomodo il pulsantino qua dietro che dobbiamo sempre utilizzare la seconda mano anche perché sennò poi dovremmo fare movimenti strani allora ragazzi non so se si apprezza il cambiamento ma guardate che colore è diventato mi aiuto con la lampadina andiamo a vedere com'era prima gioco un po' con l'ombra della lampadina per evitare ok cioè non c'è assolutamente paragone e a questo punto ora mi vado a pulire anche questo sostituiamo e continuiamo però questa volta timelapse allora ragazzi mi sono fermato dal timelapse no è andato praticamente in protezione allora ero a bassa velocità questo tipo di accessorio vedete è grande fa molto attrito guardate già come ha pulito ok lambeggia ed è una sorta di protezione ragazzi non c'è paragone rispetto a prima metti a fuoco guardate facciamo una foto e mettiamola a confronto allora ragazzi ho già perso tanto tempo per farvi vedere la lucidatura dei corpi farfallati andiamo a forare massima punta 3 mm dove caspite qui vedete è un po' magari poi con l'abitudine stavo cercando il pulsante di accensione ok va bene è andato in protezione ma sono stato abbastanza aggressivo io vediamo massima velocità quarta velocità naturalmente non è una punta per forare il legno diciamo sembra la classica punta da ferro quando va in protezione lambeggia e vabbè il foro l'ha fatto sono stato io a metterlo sotto sforzo proviamo invece a fresare allora questa è una fresa che esegue la sua azione lateralmente proviamo a fare tipo un disegnino partendo da questo da questo foro naturalmente ho esagerato con la velocità e l'ho bruciato però allora ragazzi tanto per toglierci il dubbio facciamo un taglio dischetti da taglio anzi vi faccio vedere come si monta il dischetto da taglio e tagliamo un bulloncino che ora avvitiamo qua per i dischetti da taglio dobbiamo prendere questo tipo di utensile rimuovere la vite piccolissima ragazzi io ora non riuscirò a farvelo vedere perché è veramente piccolo con la parte posteriore della chiave che è tipo un mini cacciavite allora poi qua ci vogliono le mani delle micromachine ci sono due specie di rondelline rosse sono quasi gommose che servono a poter fare presa sul dischetto quindi naturalmente va messa uno dal lato uno dall'altro e poi avvitare conviene stringerlo poi quando è sull'utensile allora in teoria conviene sempre inserire il più possibile l'utensile a meno che non ci dà fastidio lavorare con questa sporgenza perché più è esterno più è sbilanciato ricordiamoci che però almeno dobbiamo inserire un centimetro quindi così altrimenti lavora malissimo allora 5 di spessore per 60 ora io mi metterò in modo che se si dovesse rompere data la mia esperienza non mi arriva in faccia quindi io lavoro non nel senso di rotazione dove possono arrivare eventuali pezzi che si rompono ma di fronte in questo caso utilizziamo questo avvitatore per fare peso massima velocità ecco già ho fatto un errore avete visto come mi ci sono avvicinato veloce un po' un problema questo pulsantino che ci costringe a manovrare l'utensile e cambiare sempre posizione quando è acceso quindi in questo caso cercherò di posizionarmi col braccio già pronto e con la seconda mano accendo e poi stabilizzo ok non ho fatto una cosa come vedete il disco è iniziato a girare a vuoto perché non ho stretto ulteriormente questa vitina ok ragazzi avete visto nessuna difficoltà se non quelle di iniziare il lavoro nel modo giusto quindi cercando di evitare di fare questo e poi arrivare lì perché questo pulsantino è un po' fastidioso potevano metterlo in effetti vicino alla posizione naturale delle mani che ne so magari non proprio qui ma anche qua io accendo ruoto un po' e lavoro ruoto un po' e spengo sicuramente in questa zona era più funzionale qui invece è veramente fastidioso va bene ragazzi io penso che possiamo finire qua con le prove anche se veramente volevo fare molto di più per vedere la batteria ma sta durando veramente tanto perché la lucidatura dei colpi farfallati è durata quasi 20 minuti anche se voi avete visto solo alcune scene e l'ho fatta alla massima velocità e ho consumato ora le ho buttate due di queste questa è l'ultima che è quasi buona ancora e quattro di questi che sono diventate delle treccine va bene conclusioni ok ragazzi c'è un po' di pasticcio va bene per me a 19 euro lo dovete comprare se pensate di utilizzare questo tipo di utensili ad occhi chiusi ma non lavorate ad occhi chiusi e mettetevi sempre gli occhiali di sicurezza per 19 euro va bene va benissimo molto comodo il fatto di poterlo utilizzare senza fili molto comodo il fatto di poterlo alimentare ed utilizzare con l'alimentazione mentre si carica come un utensile a filo è talmente buono che troverete spesso delle foto di alcuni ragazzi che hanno il loro banco da lavoro la maggior parte fanno modellismo o piccoli restauri anche di orologi e trovate un banco dove ci sono 5, 6, 7 di questi utensili qua sia per un discorso di batterie e sia per un discorso di praticità nel cambio dell'accessorio magari ne abbiamo due con la fresa due con la punta due con la spazzolina per lucidare così il lavoro viene svolto in modo più veloce naturalmente questo è un caso estremo di professionisti che utilizzano utensili da hobbisti e che si trovano bene appunto con questi utensili da hobbisti magari ne comprano 5 a 20 euro l'uno spendono 100 euro piuttosto che comprarne uno solo di 100 euro ed avere poi la noia di andare a cambiare sempre l'utensile di avere l'ingombro del filo e cose varie una cosa che avrei fatto naturalmente vabbè la batteria sostituibile con la serie X12V Team sarebbe stata una cosa veramente eccezionale però qua avrei fatto un anellino che io aprivo e appendevo alla mia parete e lasciarlo appeso così perché tanto quella scatolina secondo me dura poco io ragazzi ve lo ripeto sono soddisfatto e probabilmente ne comprerò un altro va bene ragazzi se il video vi è piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale e attivate la campanella ciao